Le 10 regole per allenare la mente Buongiorno a tutti, sono Giusy Ciccolella, un'educatrice che lavora da quasi 20 anni nel campo della riabilitazione psichiatrica e geriatrica. Se vuoi sapere qualcosa di più su di me e sul mio lavoro vai a vedere il mio sito internet www.stimolazionecognitiva.info e la mia pagina Facebook Stimolazione Cognitiva a Domicilio per Anziani con Demenza o Alzheimer. Così potrai dare un occhio a quello che faccio e chi sono. Per non fare un video troppo lungo, che risulterebbe quasi noioso, ho deciso di dividere queste 10 regole in 3 video. Oggi questa sarà la prima parte, parleremo quindi delle prime 3 regole, i primi 3 comandamenti per allenare la mente. Il primo comandamento per allenare la mente è effettuare ogni giorno, quotidianamente, costanti esercizi di stimolazione cognitiva. Cosa sono gli esercizi di stimolazione cognitiva? Sono degli esercizi strutturati su carta e penna, costruiti appositamente, che servono per andare ad allenare le varie funzioni cognitive. La memoria, l'attenzione, il linguaggio, il calcolo, l'orientamento, il pensiero logico, il pensiero astratto. Questi esercizi li potete trovare su manuali, libri appositi, dove appunto sono ben strutturati e divisi per aree. Se volete qualche suggerimento di libri, di testi per effettuare esercizi strutturati di stimolazione cognitiva, lasciatemelo scritto nei commenti, in modo che io poi magari faccio un video apposta in cui parlo di questo argomento. Ma stimolazione cognitiva per allenare la mente non è solo esercizi strutturati e studiati appositamente, ma si può fare anche in modo informale. Esiste la possibilità di fare un allenamento mentale anche in modo non strutturato, non con schede studiate appositamente, ma con giochi un po' più informali. Ad esempio i giochi di società, giocare a carte, il sudoku, la settimana enigmistica, i crucipuzzle, i puzzle, scacchi, dama, tutti quei giochi che facciamo normalmente e che non ci rendiamo conto, magari non siamo consapevoli del fatto che in verità stiamo usando fortemente le nostre capacità cognitive. Se vi interessa un video su quali sono i giochi più utili, più stimolanti per la mente, lasciatemelo scritto nei commenti, così potrò darvi qualche suggerimento. E così vale anche per le applicazioni, esistono applicazioni per cellulare e per tablet molto utili che riproducono brainer di stimolazione cognitiva con esercizi molto interessanti. Le utilizzo anche questa nella stimolazione cognitiva in gruppo, individuale, nel mio lavoro di tutti i giorni. Questo esercizio quotidiano va inserito proprio nella nostra routine. Noi generalmente siamo delle persone abitudinari, abbiamo una giornata strutturata, ci alziamo alla stessa ora, facciamo colazione alla stessa ora, andiamo a fare la spesa alla stessa ora, pranziamo alla stessa ora, facciamo un riposino, ceniamo, facciamo la telefonata alla stessa ora. Se in questa routine, in questa quotidianità noi riuscissimo a inserire dei momenti strutturati di stimolazione cognitiva, di allenamento per la mente, sarebbe proprio il top, perché se noi creiamo un'abitudine, questo comportamento che all'inizio dobbiamo un po' creare noi, piano piano diventa un automatismo e se diventa un automatismo poi saremo portati senza fatica, senza sforzo, a sederci lì al nostro tavolo con il nostro quaderno, la nostra penna, a continuare gli esercizi di stimolazione cognitiva giorno dopo giorno. Perché il senso di esercitarsi ogni giorno per allenare la mente è proprio quello, cioè di farlo ogni giorno, anche breve per 20 minuti, 30 minuti, vedrete che poi una volta che sarete lì seduti non vi accorgerete del tempo che passa e in un'ora passerà velocissima. Quando io faccio i gruppi e gli individuali di un'ora di stimolazione cognitiva mi dicono sempre, come è passato già un'ora, quindi sono attività molto piacevoli. Quindi dobbiamo farlo rientrare nella nostra routine, dobbiamo farlo diventare un automatismo, perché solo se fatto costantemente risulta un vero allenamento e possiamo sentire i primi benefici. Ho detto che deve essere un'attività piacevole, deve diventare un'attività piacevole, non deve sentire qualcosa che dobbiamo, l'ennesimo dovere, l'ennesimo imposizione. Sappiamo che l'apprendimento è strettamente legato alle emozioni, questo in tutte le età. Sappiamo che un bambino apprende bene e gli piace una materia, se gli piace l'insegnante, l'ambiente accogliente, i compagni sono simpatici, così anche noi a casa dobbiamo creare un'atmosfera e una situazione piacevole. Le emozioni positive vanno a rinforzare assolutamente il processo di apprendimento e il processo di attivazione cognitiva. Vi darò ora l'ultima cosa che riguarda il primo comandamento per allenare la mente, che è quello di fare attività diversificate. Quindi vi ho nominato tanti giochi, tante attività strutturate, le applicazioni, i libri. Va tutto bene. Più diversifichiamo le nostre attività, quindi un giorno gioco a scacchi, un giorno faccio il cruciverba, l'altro giorno faccio il puzzle. Più diversifichiamo le nostre attività, più alleniamo parti diverse della nostra mente. Sappiamo che il cervello è fatto di varie parti, adesso non entro nel dettaglio, non voglio entrare nella questione medica, ricordo che il mio canale ha un'impronta educativa, non medica. Il nostro cervello, ogni parte del nostro cervello ha diverse funzioni. Quindi più attività diverse facciamo, più andiamo ad allenare tutte le nostre funzioni del cervello. È come andare in palestra. Quando vado in palestra per fare l'allenamento fisico, l'allenamento motorio, non è che vado in palestra e muovo sempre solo un braccio. Muovo anche l'altro, muovo le spalle, muovo le gambe, le ginocchia, glutei. Muoviamo tutte le parti del corpo e così dobbiamo fare, allenare tutte le parti della nostra mente. Il secondo comandamento per allenare la mente. Prendersi cura di sé e della propria quotidianità. Quindi vestirsi, lavarsi, truccarsi, pettinarsi, fare la spesa, rifare i letti, fare la lavatrice, cucinare, riordinare la casa, mantenere un ruolo in famiglia, sentirci utili, permette di migliorare il nostro umore, la nostra autostima, il nostro senso di autoefficacia, la nostra padronanza. Ci permette di sentire che ancora apparteniamo al nucleo familiare. Perché spesso, quando una persona inizia a avere delle difficoltà cognitive, inizia a fare le cose più lentamente, con più fatica e quindi tende a tirarsi indietro, a non fare, a farsi sostituire dal familiare. Questa cosa è sbagliatissima. Dobbiamo continuare a fare. Lo faremo più lentamente, lo faremo con più fatica, non importa. Lo faremo meno bene di vent'anni fa, non importa. Quindi continuare a sperimentare, usare, queste in campo educativo si chiamano abilità di base e abilità domestiche. Continuare a esercitare ogni giorno le nostre abilità di base, le nostre abilità domestiche, fa bene alla mente e fa in modo che noi non perdiamo queste capacità. Perché meno si fa, meno si farebbe. Qui faccio una appunto ai familiari. Devo tirarvi un po' le orecchie, perché quando un nostro familiare malato inizia a fare le cose più faticosamente, noi iniziamo a sostituirci a lui, perché facciamo prima, perché fa fatica, ma poverino faccio io. E invece no, bisogna lasciare spazio, con molta pazienza e molta tolleranza. Quindi sicuramente il nostro familiare malato non riuscirà più a fare le cose come prima e con gli stessi tempi. Ma lasciamoglielo fare, perché se no perderà la capacità di farlo. Chi se ne frega poi se il letto non è tutto bello liscio e c'è qualche piega. Chi se ne frega se sul bicchiere che è asciugato rimangono delle gocce di calcare. Chi se ne frega se mette il bicchiere al posto del piatto e la forchetta al posto del cucchiaio. Poi noi senza farci vedere andremo a ritoccare la situazione, senza fargli pesare gli errori. Lasciamo spazio al nostro familiare con delle difficoltà, altrimenti gli facciamo peggio. Pensiamo, adesso non voglio fare gli esempi, io faccio sempre la similitudine della vita degli anziani malati con la vita del bambino. Perché noi prestiamo tanta attenzione, abbiamo tanta pazienza e nutriamo molto il corpo e la mente del bambino. L'anziano si tende a dire, vabbè, è vecchio, è normale, ecco. Io faccio tanti parallelismi con la vita dei bambini proprio perché in verità la nostra mente è plastica tutta la vita. E se volete lasciatemi nei commenti, posso fare un video a parte sulla plasticità neuronale, sennò qui diventa un video infinito. Quindi continuiamo a lasciar fare. Come il bambino, a un certo punto abbiamo smesso di lavarlo, faceva la doccia da sola, se lasciava le scarpe da sola, si vestiva da sola. All'inizio il bambino si vestiva al contrario, i bambini piccoli, quindi lo so, trovavi su due paie di mutande, la felpa al contrario, la maglietta al rovescio. E si faceva una risata, non era un problema perché il bambino sta imparando. Lo stesso atteggiamento dovremmo averlo con il nostro anziano che non sta tanto bene a livello cognitivo. Quindi molta pazienza, molta tolleranza, sdrammatizziamo le situazioni, non sottolineiamo gli errori e però lasciamo fare. Che si vesta, poi lo aiutiamo a rigirarsi in maglione, che faccia a letto, poi lo tiriamo su noi meglio se siamo così pignoli. Quindi continuiamo a chiedere aiuto e partecipazione nella vita di tutti i giorni. Il terzo comandamento per allenare la mente. Coltivare i propri interessi. Continuiamo a fare le cose in cui siamo bravi, che ci piacciono e che ci fanno star bene. Ad esempio la pittura, il colorare, andare al cinema, uscire a cena con le amiche, andare a bere il caffè, ballare. Ci sono tantissime attività che sicuramente abbiamo fatto nella nostra vita, un po' per dovere, un po' per piacere. Il giardinaggio, il bricolaggio, uno sport, perché no? Quindi continuiamo a fare le cose che ci fanno stare bene. E perché no? Proviamo cose nuove. Ho parlato prima di plasticità del cervello, comunque ho accennato prima di plasticità del cervello. Possiamo ancora imparare cose nuove. Non mi dico di imparare il russo e il cinese, però se abbiamo sempre avuto il pallino di imparare a ballare, scriviamoci un corso di ballo per anziani, impareremo più lentamente, saremo un po' più gofi, però almeno stiamo bene. La nostra mente ne tarrà beneficio. In tutte le cose che facciamo la nostra mente è implicata, perché tutte le cose che facciamo richiedono l'uso della mente. E in più tutto questo migliora l'umore, l'attivazione, ci stiamo, stiamo bene. Noi abbiamo bisogno al mattino di alzarci con degli obiettivi. Sappiamo che nella giornata faremo queste cose. Perché se no, se uno si alza al mattino senza obiettivi, senza niente da fare, ha davanti il vuoto, beh, questo non ci fa stare molto bene. E così alla sera, quando andiamo a dormire alla sera, dobbiamo aver vissuto una giornata piacevole, piena, dobbiamo sentirci un po' stanchi, dobbiamo dire, ah, quante cose belle che ho fatto oggi. Tutto questo migliora l'umore, crea quei cicli positivi comportamentali, ma anche emotivi e anche cognitivi, per cui creiamo questi cicli positivi in cui più facciamo, più faremmo. Al contrario, se stiamo fermi, se perdiamo i nostri interessi, se ci tiriamo indietro perché faccio un po' più fatica, ma no, non ho voglia, fa freddo, poi ci sono quelli lì che parlano di argomenti particolari, non sono capace, non so più disegnare, mi trema la mano. Ci tiriamo indietro, meno facciamo, meno faremmo, e inneschiamo cicli invece negativi di ritiro e di perdita di capacità cognitive. Vorrei fare una puntualizzazione su un'attività importantissima, secondo me, e che faccio sperimentare a tutti nei miei gruppi, negli individuali, che è l'attività del colorare. Chiaramente non parlo del colorare topolino, i colori dei bambini, se a uno piace non può anche farlo. Ci sono dei disegni, si chiamano mandala, sono dei disegni che derivano da discipline orientali, comunque delle figure geometriche o dei disegni, dei paesaggi che vendono in cartoleria, in cartolibreria, magari anche qui se vi interessa potrò lasciarvi qualche titolo di libro da colorare interessante. Possiamo scegliere anche la tecnica che vogliamo, il pennarello, piuttosto che l'acquarello, piuttosto che la matita. L'attività del colorare è un'attività importantissima, che stimola l'attenzione, la concentrazione, la manualità fine e il pensiero creativo. E alla fine rilassa tantissimo, fa stare bene e abbassa il livello di stress. L'attività del colorare è sottovalutata, di solito le persone si approcciano con molta resistenza, provate veramente, provate a colorare magari con un sottofondo musicale, se vi piace, una musica classica o il vostro autore preferito, oppure anche in giardino, con rumore della natura, oppure anche nel silenzio, che è così bello il silenzio. Quindi provate e poi, se proverete, lasciatemi nei commenti cosa ne pensate, perché veramente all'inizio approcciano i miei pazienti dicendo mamma mia, colorare, cosa siamo venuti a colorare. Poi dicono, caspita, ho riscoperto veramente emozioni, una piacevolezza che non provo da anni. Tanto è vero che, sempre facendo il parallelismo con i bambini, il colorare è un'attività prescolastica e che anche alla scuola primaria fanno molto, perché appunto richiede veramente molte capacità cognitive. Per ora chiudo qui, altrimenti diventa veramente un video infinito. Mancano sette punti, farò altri due video in cui spezzerò questi sette punti. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like, così capisco che questo tipo di video piace. Magari iscrivetevi ai canali, cliccate sulla campanellina, così quando usciranno i prossimi video sarete avvisati. Adesso vi saluto, da un grande abbraccio a tutti e buona giornata!